Allora, 4x4, rispetto sicuramente a Formula questa cosa la devi accompagnare un po' di più in frenata nel senso che quando arriveremo forte, magari partiamo per gradi, quando aumentiamo un po' la velocità e vai a frenare per esempio prima variante Roger o Scari, parabolica, mi appoggi il freno in modo tale che carichi al davanti, basta proprio un secondo, appoggi giù l'importante è non arrivare e dargli il colpo come sul Formula altrimenti si appoggi giù, perché altrimenti me la si scompensa molto e per il resto basta, poi vediamo step by step allora col piede sul freno tiriamo leva a destra la mettiamo in sport, ti mettiamo 40 giri un po' più in grande togliamo l'automatico, molto bene, partiamo pure perché ti guardo io se non sono fatti sono per me, sono per me fai finta che non ci siano, devi fidarti di messo quello che ci arriva no, penso che siamo nel 4 ti fermo Simone, sei fermo, vieni qua perché potrebbe esserci necessità ma dovete girare di forma oggi? no, 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 ma solo per le foto vieni il sito ok, allora, acceleriamo pure prendiamo bene la costa di emissione e indietro l'idra quando vuoi allora, la maniata facciamo in seconda e la maniata di inserire, ok, andiamo a chiudere e la variante di sacrificare tanto la prima e cercare di portare un po' di velocità nella seconda e un po' le C su gas e seguiamo bene la pista e la via ok, gas con sanno esterno da la via se mi hanno un po' di non sarebbe a darci un po' di se è un po' di almeno che ci sono a dire che ci sono ok, inizia e se mi hanno un po' di sono un po' di Andiamo sui gas Allora, loggia Dove si pare gas Spazializzo gas E' una roba del genere Prendo, porto dentro La frenata Vicino a un cordolo Ok, stai dentro Via Gas, via lato Prendo, prendi bene Vicino a un cordolo Dalla come in poi, ma c'è una buca BAM, da qua, sottoprire Il resto del freno Qua si può prendere decisione Vai, facciamo che Prendiamo la porta Prendiamo il treno Vai, pizzichiamo sul cordolo Quando scende la porta Gli gas, spazializzi Ok Vai, adesso sperano un cambio Marcia poi in mezzo Non facciamo dopo Vai L'acqua Quando andiamo Come av 저희가 La met那个 La parate Doc E し Vai compriamo Poi Inizio Per Vediamoci sempre sul telefone La pista Per via Tenza Vicino vilani Con Marcia La fronte è la fronte, la fronte, è la sinistra, la linea latina, la fronte è la vecchia. Tanto spazio, sempre prima di impostare Vai! Bene, ricordati eh, gas, gas, spazializzo, gas Ok Ok, ora, guarda questa struttura, non lo ricorda Non lo lasciare a perdere Largo, 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 dentro Vai Guarda, non ce ne sento queste strutture Chissà che l'abbiamo 5, 80 km di adesso L'abbiamo 5, 20 km di gas, ok? Ok Scaliamo, parcia, 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 silenziamo Vai in terza Dentro, scendi d'accordo, spazio Ok, parzializza, parzializza Presto la metà sinistra E via, vai, lascia andare Medi Ok, vediamo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.